Questa sera parliamo di media. Lei che impressione si è fatto di nuovi media che vengono definiti mendaci, invadenti, eccetera, eccetera? Che erano mendaci e invadenti anche i vecchi media? Sono solo diverse forme di possibilità di fuorviare attraverso l'informazione. La cosa centrale è questa, che a lungo si è creduto, ritenuto che l'informazione fosse appunto mendace, menzognera, fuorviante attraverso una forma di censura negativa, cioè riducendo lo spettro delle notizie, cassandone alcune, manipolandone altre. Invece, diciamo così, all'altezza della seconda metà del Novecento, ma già prima con la propaganda ci si è accorti che invece l'informazione fuorvia, inganna, ampliando il proprio spettro all'interno di strategie ben precise. Perfetto. E a suo avviso la televisione è in crisi? La televisione in quanto tale? Ma no, secondo me noi viviamo ancora, diciamo così, nell'era della televisione. nella sua fase declinante c'è una competizione tra diverse media, come si è verificata in passato tra il libro a stampa e la televisione, ma secondo me, diciamo così, è ancora al centro del processo di formazione dell'opinione pubblica, per esempio, anche sciaguratamente per molti aspetti. Se noi pensiamo che, prendiamo l'Italia, il pubblico televisivo abituale, sistematico, è formato da 10 milioni di telespettatori, che sono per lo più di sesso femminile, di età elevata, di istruzione inferiore, residenti in provincia e nelle città del centro-sud. Quindi, diciamo così, con tutto il rispetto, la fascia sociologicamente che è arretrata dal punto di vista culturale. Eppure quei 10 milioni di spettatori abituali, ancora oggi, sono l'interlocutore privilegiato della comunicazione politica, della comunicazione pubblicitaria e quindi della vita economica, sociale e politica del Paese, insomma. Ecco, pensa che il medium debba porsi in qualche modo dei limiti o che sia giusto invece che in qualche modo indaghi qualsiasi tipo di sfera pubblica, privata? No, qui siamo nel campo, se parliamo di media, siamo nel campo della tecnica e l'unica, diciamo così, legge sovrana della tecnica è la seguente. Ciò che può essere fatto sarà fatto. E quindi, se la tecnica non viene in qualche modo domata, non subentra a qualche altro principio non tecnico, tutto ciò che potrà essere fatto sarà fatto. Prendiamo il caso, per esempio, del Presidente del Consiglio, che lamenta che venga sottoposta la sua vita privata e pubblica a scrutinio esagerato, insistito, invadente, da parte della stampa nelle sue forme tradizionali e più aggiornate. E noi a volte potremmo essere portati a concordare con lui e dire, diamine, è effettivamente eccessivo questo scrutinio, questo indagare. Però, se pensiamo che il Presidente del Consiglio, in quanto grande tycoon, uomo di media e cose, è un uomo che, come dire, ha pubblicizzato se stesso con ogni mezzo. È giusto o sbagliato non lo so, ma è conseguenza naturale il fatto che venga sottoposto a critica con ogni mezzo. Ecco, a proposito del Presidente del Consiglio, volevo una battuta da lei sull'affaire Berlusconi da Dario e sulla copertura mediatica. In particolare faccio riferimento al Tg1, ad esempio. Non vi è dubbio alcuno che il Tg1 sia, diciamo così, venuto meno a un criterio giornalistico puro, nel modo in cui ha coperto, anzi meglio, non ha coperto giornalisticamente la notizia. Non vi è dubbio alcuno su questo. E sia anche venuto meno a un criterio, come dire, a un principio di mercato, cioè una legge di mercato, che dimostra che il mercato non è mai legge a stessa. Però io, guarda, la cosa che più mi solletica di tutta questa vicenda, che più mi interpella in quanto scrittore, è l'idea, il pensiero, che poi magari non diverrà mai il progetto, che questa vicenda avrebbe bisogno di un grande romanziere per essere raccontata. Non so, magari fra trent'anni. Non so, magari fra trent'anni. Grazie.